Le saudenti melodie del tango e le appassionate atmosfere sudamericane saranno le indiscusse protagoniste dell'estate avellinese. Partito dal sollevante terra dei fiori di pesco, revocate dalla voce di Yun Sun Na per approdare sulle coste sabbiose del Mediterraneo prima e del Brasile poi, rappresentate dall'ambasciatrice della Pace Noah e dal Jimi Hendrix del Bandolim Hamilton de Olanda, il giro del mondo in note di musical parco torna in Sud America e arriva fino alla terra del fuoco e della passione, l'Argentina. Ad agosto musical parco non va in ferie e per la quarta tappa del suo viaggio attorno al mondo riparte dalla terra dei calciatori e dei gauchos, dei navigatori e soprattutto dei tangheri. Sabato 23 alle ore 21 la suggestiva cornice del parco del Gesualdo spalancherà alle sue porte ai bravissimi ballerini della Casa del Tango di Monteforti Irpino che si esibiranno sulle melodie dei grandi classici della musica argentina in una milonga sotto le stelle da mozzare il fiato. Le musiche selezionate per l'occasione da musicalisador creeranno un tappeto sonoro attraverso le mortali note di compositori impareggiabili come Astor Piazzolla e Carlos Gardel su cui si cimenteranno i tangheri avellinesi. Per la serata lo spazio antistante il palco sarà lasciato libero per consentire a chiunque lo desideri di poter ballare sulle melodie sudamericane lasciandosi cullare dai ritmi e dalle movenze dei tangheri. Una serata al chiaro di luna per una vera e propria festa della passione e della sensualità che solo il tango argentino è capace di trasmettere.